Il ciclismo lucchese si è ritrovato alla casa del Boia sulle mura per tracciare un bilancio del 2021 e per effettuare le premiazioni alle società e agli atleti che si sono messi in evidenza. Un particolare riconoscimento è andato a due società che hanno organizzato manifestazioni a carattere nazionale e mondiale, il GS Marginone con il suo presidente Donati per aver organizzato il campionato italiano a cronometro categoria allievi con la collaborazione del Comune d'Alto Pascio e il Ciocco Sport Lab che ha organizzato i campionati italiani Pump Track ma soprattutto il Mondiale Marathon Mountain Bike a distanza di 30 anni dalla leggendaria rassegna ridata del 91. Sono intervenute diverse autorità, il sindaco di Lucca Tambellini, il presidente regionale Metti, il presidente provinciale Castellani, quell'onorario Battaglia, l'assessore del Comune di Varga Balducci, il sindaco di Alto Pascio d'Ambrosio. Altri premi sono andati alle 37 società della nostra provincia. Le due opere sono state realizzate in string art dall'artista Carla Consani che è anche una ciclista praticante. Pierluigi Castellani, numero uno del ciclismo lucchese, si proietta già al 2022 e ad una stagione nella quale si spera possa rifiorire tutto il movimento. È stata la prima e penso che il prossimo anno sarà un pochino più semplice, spero, ma soprattutto quello che fa la differenza secondo me sono le manifestazioni. Venendo a mancare le manifestazioni anche gli argomenti sono pochi e quindi abbiamo fatto una sintesi del 2021 molto veloce, in 10 minuti abbiamo raccontato che è successo perché sono state organizzate 18 gare quindi di più non si poteva fare. Mentre invece una cosa un pochino più corposa è stata la presentazione per quello che sarà un 2022 che è già abbastanza ricco di date, ne ho già 30 in cantiere. Poi ora dobbiamo sviluppare una per una e vedere quelle che sono fattibili e non fattibili e sicuramente parlando anche con altre società in questo momento mi hanno già confermato che vogliono aggiungere altre manifestazioni.